A Pesaro dal 27 novembre al 9 gennaio, il Natale dappertutto. Ritorna la meravigliosa atmosfera natalizia di Pesaro nel cuore, con centinaia di attività, la pista di patinaggio in piazza, i tipici mercatini natalizi, gli spettacoli itineranti, il trenino Wii Pesaro Express e due novità imperdibili, il grande villaggio di Babbo Natale e Ice Slide. In collaborazione con Famila, con noi sei in famiglia, Climatec, specialisti in riscaldamento e climatizzazione, Estra Luce Gas Green, Federici Sofà, eccellenza artigiana dal 1968, Pesaro e Fano.